allora ragazzi oggi è giornata di sfida che cosa avete lì in mano cascone cavettone che cos'è un gioco che però è soprattutto una sfida si mette questo casco in testa e chi perde si fa un bel bagno oggi si sfideranno alissa contro daniel apriamo vediamo cosa c'è nella confezione dai ecco qua il mio bellissimo cavettone ok c'è anche questa ruota si decide in pratica quanti paletti bisogna togliere perché è possibile toglierne uno due o addirittura che è fortunato saltare il turno o aspetta è fortunato quello a cui non viene tolto il paletto ovviamente non l'altro va bene ragazzi adesso noi sistemiamo il tutto e poi via la sfida chissà a chi toccherà mettiamo qui l'acqua uno poi all'altro a chi toccherà farsi una bella doccia oggi l'abbiamo riempiti bene 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 direi che ci siamo adesso non resta che farglieli indossare siete pronti e pronto daniel mettiamo i tappi ecco fatto siamo pronti ad indossarli ok i caschi li abbiamo messi c'è un bel po' di sole ma questo è meglio perché qualcuno si bagnerà chi sarà? chi gira per primo la ruota? io e tutti e due vabbè dai prima le ragazze gira forte? no devi girare bene ok cosa c'è scritto? un paletto un paletto allora togli un paletto a daniel lo puoi anche girare guarda guarda puoi girare così tira cosa è successo? è successo qualcosa? ok allora tira tu daniel questi li tengo io gira forte non mi fido gira forte forte ok così un paletto anche tu puoi anche girarli come va? tutto a posto? vai ragazza aspetta grazie gira la ruota gira dai paletti gira la ruota della fortuna cosa dice? salta il turno io l'ho visto che c'era scritto salta il turno era capitato qui quindi tocca a daniel tocca no forte dai cosa c'è scritto? un paletto e fai girare di nuovo la ruota la togli un paletto ad alissa alissa ha perso e a daniel? ma daniel non ha perso ti sei rinfrescato? fatevi vedere un po' come vi siete ridotti ma questo è un bel gioco da fare in spiaggia però eh lo vuoi rifare? lo vuoi rifare? facciamo un secondo round? siiii! terzo round ragazzi com'è stato questo gioco? bellissimo! vi siete divertiti? tantissimo è innanzitutto un gioco bellissimo se lo facciamo al mare è perfetto eh si al mare si al mare c'è tantissimo caldo e una bella dolce se vuole esatto e poi così anche se vi bagnate non avete tutti i vestiti no? però è stato ancora più divertente così e poi così e poi così e fare un altro? si facciamo io contro te? si va bene però lo facciamo senza video perché altrimenti chi è che ci riprende? però magari la prossima volta facciamo mamma contro papà o bambini contro grandi tu che vorresti fare daniel? io vorrei più fare la mia idea che è? che è bambini contro grandi alissa mi dispiace che hai perso però dai in fondo poteva anche andarti peggio non ti sei bagnata tanto no! no! cosa? no! questo vuoi bagnarsi peggio? povera alissa! non penso che andarti peggio comunque ci vendicheremo! alissa andiamo a vendicarci presto! guarda la sovra! come va? va bene! hai un po' freddino? dai andiamoci a cambiare! ciao a tutti! ciao! va bene ragazzi speriamo che vi siate divertiti con il nostro video questo qui è il cascone gavettone e ci vediamo al prossimo video e poi aspettatevi anche questa super sfida! ciao a tutti!